ben ritrovati ben ritrovati all'entare come sono costruttore siamo tornati in un nuovo video cioè intanto con la luminosità 100% quindi guardate qua vediamo un pochino come si è luminosità 100% è una prova e niente di notte come al solito faremo il livello bonus che non sappiamo come si chiama avanziamo speriamo si veda bene se non meglio si sembrerebbe poi boh così abbiamo fatto un errore di un verde un pochino più chiaro chiaro si molto più chiaro e anche tutto il resto è molto più chiaro poi dobbiamo provare luminosità 0 e vedere cosa succede tutto scuro eccolo qui ecco il livello bonus che è fuga del veloci raptor ah ok quindi dobbiamo inseguire quei tizi o forse è che no non fareste voci di buca del veloci nonostante sognate perché un consognato poverino che bel lo non ci sta si è vero che l'ho fatto No, guarda, cosa c'entrano sti cosiddini? Poverito un sogno Poverieri Vai Correte 500, 600 mila monete 700 mila monete Che sta succedendo? Parimi sti livelli monstri Mi durano un fumo Ma Gesù se sti veloci lato Con le scatole dei piccoli Poi magari facciamo una cosa Dopo che è finito questo livello bonus Andiamo a vedere Andiamo a vedere Se ci sia quel cubo d'oro Che abbiamo preso Quel cubo rosso che abbiamo preso Ecco il livello bonus 100% Ovviamente Ovviamente Sì, infatti Colpe il 64 Ferro sopravvissuto Cubo d'oro Due cubi d'oro Sì Torna l'isola Ok Ora Quanto è più chiare? Giallo Ma non è più verde Sì, infatti Che poi chissà come lo vedete voi Dovremmo vedere Ora c'è il caricamento Parara 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 Carina stai mini costruzioni Sì, fai Questo t-rex minuscolo Lì dietro La barriera Il cancello Non so che il cancello Ma quella lì è proprio Cioè il recinto del tirano So C'è lì è proprio minuscolo Poi puoi fare anche lo zoom Ma hai fatto bene Un po' penso Allora Vediamo un attimo Visto che questo video è cortissimo Intanto vediamo anche Se riusciamo Se c'è un perro Da acquistare Quindi cubi rossi O qualche altra Stupidaggine Eh Punteggio per 6 Perfetto Allora Questiamo Ok Subito Fai altre cose Vai l'attimo In rilevatore Ma vabbè l'attimo Non servono al tubo Eh beh sì invece Perché se non c'è la mappa Come nel nostro caso Vabbè ma c'è adesso Non ci sono più voliere No c'è una voliera Porca boia Quindi Prendiamo tutto Aspetta un attimo Vabbè un attimo Sì vabbè compra Compra Tanti Rilevatore di mattoncini rossi Lo scrive Mettiamo in descrizione Ste cose Poi anche Rilevatore di mattoncini d'oro Esatto Ah non c'ho bisogno No no Infatti non serve una mazza Rilevatore di mattoncini d'ambra Questo ci servirà Per quando faremo Quando Mi da 100% E se Costruzione dell'oroce Che deve servire Comprano Tanti Costruzione dell'oroce Poi Musica 8 bit Prendi Sì dai Prendiamo tutto Sì Musica 8 bit Ok Travestimenti Travestimenti Medri Prendiamo anche questi Ma si approfittiamo Che portano lì Travestimenti Ibridi Travestimenti Ibridi Comprato Voce all'elio Cosa vuol dire Voce all'elio O tipo Che parla una cosa Una cosa del genere No Ok aspetta Usa un attimo Usa un attimo Travestimenti Intanto per 6 Ok Scendi Gli arrivatori Gli arrivatori Gli puoi anche Metterli intanto Voce va bene Anche costruzione Veloce Massi Metti Travestimenti Ibridi Che mi ricordo Come sono Eccoli Travestimenti Ibridi Magari il primo Livello Il primo livello Di Di Esplorazione Il primo livello Di esplorazione Di cosa Lo possiamo fare Con questi tizi Che dici Sì Ah va Diamo Allora no Aspetta Facciamo vedere Abbiamo fatto Il livello Bonus Della terza Mappa Concludendola Ok Questo qui Fuga del Velociraptor Ora Cioè La prossima volta Andremo a fare Questo E vedremo Dove partire Esatto Quindi La Jurassic World Proprio Ci sono La mano E qua Diamo Una Arrivederci Da Decomastro Costruttore Ci auguriamo Quelli Di Ti 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 Ti